Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le start-up che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marti. Benvenuti a The Future Of, o bentornati se siete ascoltatori fedeli di questo podcast. Io sono Andrea Ferrante e questa è la puntata numero 36, nella quale parliamo di hackerabilità dell'essere umano. Eh sì, perché anche in questo caso non stiamo parlando di fantascienza, ma di qualcosa che sta avvenendo ed in parte è già avvenuto. L'uomo attraverso le interfacce brain-computer, quindi interfacce computer-cervello, attraverso l'analisi dei segnali cerebrali, dei segnali elettrici prodotti dal nostro cervello e ovviamente attraverso il DNA può essere hackerato, cioè si può prendere quello che l'uomo genera e quello che l'uomo ha all'interno, manipolarlo, alterarlo e modificarlo per ottenere dei comportamenti desiderati diversi da quelli dell'uomo naturale. Tanto che i ricercatori e gli scienziati sono arrivati a coniare un termine, quello di mental privacy e cioè fare una richiesta agli organi legislativi affinché vadano a proteggere le parti più intime del nostro essere umano appunto i segnali cerebrali prodotti dal nostro cervello e i filamenti e il contenuto del nostro DNA che ci caratterizza. Ma come sempre non tolgo altro tempo alla trattazione, allacciate le cinture, reggetevi forte, pronti, partenza, via! Carlo Rubbia ha detto Siamo su un treno che va a 300 km all'ora Non sappiamo dove ci sta portando E soprattutto ci siamo accorti che non c'è il macchinista Una frase che si presta bene ad introdurre il tema della careabilità dell'essere umano futuro plasmato dalla possibilità di modificare il suo DNA dall'integrazione tra cervello umano e computer e dagli algoritmi che ci conoscono meglio di noi stessi Perché si tratta di territori ancora inesplorati Quando parliamo della vulnerabilità di questo nuovo sistema uomo agli attacchi esterni Forse qualcuno degli ascoltatori di The Future of in questo momento starà storcendo il naso Ma perché preoccuparsi di qualcosa che di fatto non è ancora avvenuto? Facciamo fatica a proteggere i nostri computer ed i nostri smartphone dai cyberattacchi esterni Perché preoccuparci adesso dell'uomo? Perché probabilmente non avete ancora sentito parlare di Moran Cherf Cherf, un ex hacker professionista del computer per più di un decennio era curioso di sapere se era possibile hackerare il cervello dando alle persone accesso e controllo sui sistemi inconsci Perché ovviamente molte delle operazioni che il nostro cervello svolge avvengono senza che noi nemmeno ce ne rendiamo conto Facciamo un esempio Se chiedete a voi stessi o a qualcuno di vedere il mondo in tonalità di grigio sapete che state chiedendo una cosa impossibile Se il mondo è colorato, il cervello vede il mondo a colori Punto È fisicamente impossibile per qualcuno accedere a quei processi che avvengono nel proprio cervello almeno per ora Nell'esempio di prima non possiamo controllare le parti che governano l'elaborazione del colore Inoltre, non è possibile cancellare i ricordi rimuovere informazioni o controllare le emozioni a piacimento Non puoi decidere che sarai triste per dieci minuti e poi felice per il resto della giornata Tuttavia Cherf sostiene che questo potrebbe cambiare Spiega che il cervello è attualmente cablato come una strada a senso unico L'informazione va in una direzione I neuroscienziati lo definiscono processo feed-forward È quasi impossibile che le informazioni si propaghino all'indietro nel processo Ma creando delle deviazioni all'interno di questi percorsi di trasmissione dagli organi recettivi alle parti del cervello che interpretano i segnali i neuroscienziati potrebbero far fluire le informazioni in entrambe le direzioni Lavorando con pazienti il cui cervello era stato aperto per un intervento chirurgico Cherf e il suo team hanno posizionato degli elettrodi all'interno del cervello per creare tali deviazioni In questa particolare situazione potevano accedere a piacimento a taluna e sezione del cervello dei pazienti e addestrarli ad avere il controllo sulle parti normalmente inaccessibili La grande domanda era, le persone potrebbero cambiare la loro interpretazione della realtà? In pratica hanno testato la loro ipotesi sul sistema percettivo Ci sono molteplici processi che avvengono prima che la tua mente veda I fotoni colpiscono la retina, il tuo cervello aggrega le informazioni in colori e forme e alla fine comprendi l'immagine, come ad esempio tua madre Tuttavia, se tu potessi accedere alle sezioni giuste del tuo cervello potresti vedere una cosa con i tuoi occhi e una cosa diversa con la tua mente Puoi vedere tua madre, ma suscitare il pensiero di tuo padre nell'occhio della tua mente Questo è proprio quello che ha fatto il team di ricerca di CERF Ma le possibilità non finiscono qui Con una formazione aggiuntiva potrebbero permettere ai partecipanti di modificare ciò che hanno sentito Immaginate di sentire un bullo che vi insulta Ma la vostra mente sceglie di ignorarlo completamente I risultati dello studio suggeriscono che con un maggiore controllo del cervello le persone potrebbero avere più potere sulla loro vita Si potrebbe vedere e sentire ciò che si vuole invece di ciò che viene naturalmente comunicato attraverso i sensi Si potrebbe controllare anche come ci si sente Il che potrebbe potenzialmente porre fine alla depressione Lo stesso CERF durante un'intervista alla domanda Cosa cambieresti nel tuo cervello se potessi? Ha risposto Parlo troppo velocemente Ed è difficile per i miei studenti capirmi Mi piacerebbe regolare la mia velocità Ad un livello più nobile mi piacerebbe essere in grado di aumentare l'empatia E capire meglio gli altri Vorrei scegliere persone specifiche con cui allineare il mio cervello Genitori e amici per capirli meglio Ora, se pensiamo al caso specifico È chiaro che non conosciamo molte persone Che si farebbero aprire il cranio per impiantarsi degli elettrodi Ma anche in questo caso La tecnologia sta progredendo rapidamente E già esistono opzioni decisamente meno invasive Per esempio Già oggi sarebbe possibile scansire il cervello Per capire cosa ci provoca piacere e cosa no Si può già fare con grande accuratezza Ma è super noioso Quindi per ora viene fatto solo in laboratorio Teoricamente una persona potrebbe indossare una cuffia EEG Per vari giorni consecutivi In tutti i suoi momenti di vita Dalla sala riunioni alla camera da letto per così dire Con questo gli scienziati possono creare un diario Di tutte le attività e tutte le scelte fatte dalla persona Capendo quando è risultata felice o insoddisfatta Guardando ai momenti in cui il soggetto è stato felice Si può esaminare quel preciso stato cerebrale Ed individuare le condizioni In cui vengono prese le decisioni che per esempio ti piacciono Una volta che i dispositivi di analisi diventeranno più economici E meno invadenti Quest'analisi potrebbe diventare popolare E con questa analisi Se fosse in real time L'individuo potrebbe imparare a riconoscere Ed alterare I suoi comportamenti e le sue decisioni In uno scenario più distopico invece Basterebbe un'app Per controllare gli elettrodi nel cranio Dal telefono E decidere che oggi vogliamo vedere il mondo tutto azzurro Parlare più lentamente Ignorare i commenti delle persone sgradite O sentirsi più allegri e positivi per qualche ora E se pensate che queste siano visioni da laboratori di ricerca evoluti e un po' folli La realtà è che anche alcuni ricchi imprenditori Stanno andando in questa direzione Ed ovviamente lo stanno facendo con l'obiettivo del profitto Cosa che rende un po' più preoccupante il tema Della direzione di sviluppo intrapresa da queste soluzioni Con personaggi del calibro di Elon Musk e Mark Zuckerberg Che sostengono con le loro energie e finanze Lo sviluppo di interfacce uomo-computer Le cosiddette BCI Non ci vorrà molto tempo Prima che questa tecnologia diventi mainstream Cioè comune, diffusa Immaginate di usare Facebook senza digitare O di guidare un veicolo Tesla con la sola mente Zuckerberg ha detto che prevede una piattaforma Che ti permette di comunicare usando solo la tua mente E ha sostenuto la divisione tecnologie sperimentali della sua azienda Con centinaia di milioni di dollari di finanziamenti La visione di Elon Musk va anche oltre quella di Zuckerberg Musk vuole creare un chip cerebrale Che invia e riceve informazioni Le possibilità offerte dalle BCI Sono entusiasmanti da una parte Ed estremamente spaventose dall'altra La capacità di comunicare con le persone Usando il tuo pensiero ad esempio Intregante Il pensiero di un hacking e controllo della mente Da parte di un criminale informatico Non tanto Caricare un libro di testo digitale Nella tua memoria La sera prima di un esame Estremamente interessante Avere tutta la tua memoria cancellata O sostituita con ricordi falsi Devastante Qualche tempo fa Elon Musk Il cui interesse principale è creare il futuro Ha annunciato che una delle sue aziende Neuralink Sta lavorando per fondere il cervello umano E il computer Questo obiettivo sarà raggiunto Piantando migliaia di minuscoli elettrodi Nel cervello Che convertirà il pensiero in segnali Che possono istruire per esempio Un computer a fare determinati compiti Alla fine Alla fine L'uomo saprà tutto ciò che fa un computer E come ha detto Musk Raggiungerà una sorta di simbiosi Con l'intelligenza artificiale Di nuovo Possiamo pensare che queste tecnologie Siano lontane nel tempo E che comunque servirà una quantità di ricerca Pazzesca per arrivare a questi scenari Ma non è così In alcuni casi Abbiamo già esempi di queste tecnologie Commerciali E da basso costo L'inventore e neurotecnologo Philip Law Sta sviluppando un monitor portatile Chiamato iBrain In grado di rilevare L'attività elettrica del cervello Dalla superficie del cuoio cappelluto Le persone con la malattia di Lou Gehrig La famigerata sclerosi laterale amiotrofica O altre forme di paralisi Hanno ancora una sana attività cerebrale Usando l'iBrain I pazienti potrebbero usare i pensieri Per controllare una mano virtuale Sullo schermo di un computer Alcuni neuroscienziati Stanno già traducendo la lingua del cervello In un semplice inglese Il neuroscienziato Jack Gallant Della University of California Berkeley Sta compilando un dizionario del cervello Per tradurre i pensieri in immagini e parole Gallant e i suoi colleghi Hanno mostrato alle persone immagini diverse Mentre misurano la loro attività cerebrale Attraverso la risonanza magnetica funzionale Dall'attività cerebrale Il team di Gallant può ricostruire Le immagini approssimative che la gente ha visto Gli scienziati stanno anche sviluppando Un dizionario di concetti Che permette loro di indovinare Cosa pensano le persone Delle immagini che vedono La missione del neuroscienziato Imprenditore Chris Berka È invece quella di trasformare Un dilettante in esperto In un solo giorno Atleti, performer o altri esperti Possono attingere Arrivare ad uno stato di estrema concentrazione mentale Che prende la definizione di Essere nella zona Lo stato della zona Che anche i dilettanti possono raggiungere Ha una particolare firma Nell'attività cerebrale La società di neurotecnica Berka Sta sviluppando una tecnologia Per monitorare l'attività cerebrale Delle persone durante un compito E notificare loro Quando hanno raggiunto Il loro stato di picco delle prestazioni Cioè la cosiddetta zona In sostanza La tecnologia offre alle persone La possibilità di penetrare nel proprio cervello Per migliorare le proprie prestazioni Ma cosa succederebbe Se altre persone potessero Infiltrarsi nel cervello di una persona E piantare dei pensieri proprio lì? I programmatori di computer Irrompono in sistemi sicuri Usando delle crepe O delle debolezze software Negli esseri umani L'olfatto potrebbe essere una crepa Per il cervello Ilana Hairston Una psicologa dell'Academic College Di Tel Aviv in Israele Usa l'olfatto per piantare Informazioni nel cervello Delle persone mentre dormono Allena le persone che sonnecchiano Ad associare certi odori Piacevoli o sgradevoli A suoni particolari La nozione suona come fantascienza Ma si basa su un percorso cerebrale Che permette ai sensi come l'olfatto Di entrare nel cervello Senza consapevolezza cosciente I ricercatori della sicurezza Delle università di Oxford Ginevra e Berkeley Hanno creato un programma personalizzato Che è stato appositamente progettato Con l'unico scopo Di scoprire dati sensibili Usando le BCI Dati come la posizione della vostra casa Il PIN della carta di credito La banca che utilizzate O la vostra data di nascita I ricercatori hanno provato Il loro programma su 28 partecipanti Che erano cooperativi Ma non sapevano di essere stati hackerati E in generale gli esperimenti Hanno avuto dal 10 al 40% Di possibilità Di ottenere informazioni utili Recentemente Alla Enigma Security Conference La ricercatrice e docente Dell'Università di Washington Tamara Bonacci Ha rilevato Scusate Ha rivelato Una tecnologia Che potrebbe essere utilizzata Essenzialmente per hackerare Il cervello delle persone Ha creato questa tecnologia Intorno a un gioco Chiamato Flappy Whale Mentre la gente giocava al gioco La tecnologia era in grado Di estrarre segretamente Le risposte neurali Delle persone Ad immagini subliminali Proposte all'interno del gioco Come loghi Ristoranti Automobili Ed altri stimoli Di natura commerciale Ora L'hackeraggio Dei sentimenti E dei pensieri Di fondo delle persone Sul vedere Un'immagine commerciale Non sembra che possa causare Molti danni Ma questa tecnologia Ha il potenziale Per raccogliere informazioni Molto più intime Su una persona Le possibilità vanno Da uno strumento di ricerca Incredibilmente utile A un dispositivo Di interrogazione Potenzialmente spaventoso Sintetizzando Quanto ho detto finora Se attualmente Se attualmente Non c'è bisogno Di farsi prendere Dal panico Sulla possibilità Di leggere Le nostre menti Senza il nostro consenso O la nostra conoscenza C'è una possibilità Molto concreta Di preoccupazioni etiche Per il futuro Riguardo a queste tecnologie Un giorno Dovremmo pensare Ai segnali elettrici Che produciamo Biologicamente Come dati Che potrebbero essere Rubati Manipolati O usati Contro di noi Tanto Che sono gli stessi Ricercatori A spingere Verso la definizione Di nuove regole All'interno Del campo Dei nuovi diritti Umani Che proteggono Le persone Dal furto Abuso O hacking Dei loro pensieri E di altre informazioni Sul cervello Tanto Da far coniare La dizione Mental privacy Sollecitare Che gli enti mondiali Si attivino In questa direzione È una risposta Ai rapidi progressi Che si stanno facendo Con tecnologie Che leggono O alterano L'attività cerebrale E che molti Si aspettano In grado Di portare Enormi benefici Alla vita Delle persone Nei prossimi anni Ma anche Come detto Potenziali rischi Il diritto Alla privacy mentale Allo scopo Di colmare Una lacuna Nelle salvaguardie Legali E tecniche esistenti Che non fanno Nulla Per impedire A qualcuno Di far leggere La propria mente Senza consenso Mentre i moderni Brain scanner Non possono Strappare I pensieri Dalla testa Di una persona I miglioramenti Tecnologici Potrebbero Rivelare Informazioni Sempre più precise Sull'attività Cerebrale Delle persone Oggi Non esistono Regole certe Su quali Informazioni Sul cervello Possono essere Raccolte Dalla persone E con chi Possono essere Condivise Ciò che alcuni Scienziati temono È la fuga Indiscriminata Di dati sul cervello Come avviene ora Con le informazioni Personali Che le persone Condividono Sui social media Un vecchio Proverbio africano Recita È più facile Deviare il corso Di un fiume O spianare Una montagna Che cambiare L'animo Di un uomo Quello che vi ho Raccontato Finora Sulla possibilità Di entrare Nel cervello Umano Sembra invece Andare nella direzione Opposta Con l'aggravante Che se il cervello Può essere Il punto di ingresso Di nuove tecnologie Nella sfera intima Dell'uomo C'è un altro Componente Cardine Della biologia Umana Che sta diventando Sempre più accessibile Il DNA Mentre anni fa La sola idea Di digitalizzare Il nostro DNA Sembrava Nel migliore Dei casi Una teoria Futuristica Ora è la nostra realtà E questo apre A vaste implicazioni Dal punto di vista Della privacy Per esempio È giusto Che un datore di lavoro Chieda il tuo DNA Chieda di vederlo Per capire Se il tuo corredo genetico Ti rende adatto A un ruolo particolare Dove tracciamo La linea di demarcazione Su ciò che viene considerato Un eccesso Di condivisione Dei nostri dati personali E soprattutto Dove ci fermiamo E consideriamo Non solo Le implicazioni Per la privacy Ma anche quelle Per la sicurezza Se noi Come consumatori Ci siamo Ridotti A regalare I dati Sui nostri comportamenti Al punto Da non prestare Molta attenzione A dove vanno a finire E come vengono usati Quello del DNA È un argomento Sul quale Dobbiamo svegliarci Ed essere vigili L'alternativa Potrebbe essere Quella di pagare Il prezzo Ultimo Del furto Di identità L'utilizzo Di dati E la presa Di decisioni Basata sull'analisi Genetica Sembra essere Del resto Un trend Che emerge Con grande forza In un primo momento Si dice Lo faremo Per ridurre Il rischio Che i bambini Concepiti Attraverso il sesso Abbiano Qualche tipo Di anomalia Genetica Dannosa Ma una volta Che iniziamo Ad abituarci Allo screening Embrionale Per ridurre I rischi Per la salute Molti di noi Vorranno fare Selezioni Che daranno Ai nostri figli Maggiori possibilità Di vivere Una vita Lunga E sana Ho già raccontato Come in Cina Stia diventando Prassi Far condurre Test genetici Sulle presunte Abilità Dei nascituri Poi probabilmente Useremo Le tecnologie Delle cellule Staminali Per aiutare Le donne A generare Migliaia Di uova In più Di quanto Potrebbero Da sole Ed aumentare Il numero Di embrioni Che possono Essere sequenziati Prima di Prendere Una decisione Su quale Impiantare Infine Utilizzeremo Anche strumenti Di editing Genetico Di precisione Più evoluti Sicuramente Dell'attuale CRISPR Per apportare Una serie Di modifiche Genetiche Discrete A questi Embrioni Preimpiantati Per Eliminare Rischi O Conferire Benefici Uno scenario Da uomo Dio Che al di là Delle ovvie Problematiche Etiche Apre Anche il rischio Di manipolazioni In debite Ma prima ancora Di arrivare Al tema Della modifica Degli embrioni Dobbiamo Iniziare A preoccuparci Almeno Della circolazione Dei dati Sul nostro DNA Con la crescita Dei test Del DNA Domiciliari Servizi online Come GADMatch MyHeritage Family3DNA Sono diventati Luoghi Noti Alle persone Per caricare Le loro informazioni Genetiche Ricercare La loro genealogia E trovare I parenti perduti Sono stati utilizzati Anche dalle forze Dell'ordine Per trovare Sospetti criminali Attraverso Una corrispondenza Del DNA Con i parenti Tutto lecito Ed anche utile Ma recentemente Il professor Graham Copp Del dipartimento Di evoluzione Ed ecologia Della University Of California Ha avvertito Che questi servizi Diretti al consumatore Potrebbero essere Vulnerabili A una sorta Di hacking genetico Caricando Sequenze Di DNA Selezionate Ha detto Può essere possibile Ad esempio Estrarre i genomi Della maggior parte Delle persone In un database O identificare Persone Con varianti Genetiche Associate A tratti specifici Come il morbo Di Alzheimer O altre malattie Insomma Servirebbe Una presa Di coscienza Urgente Che qui Non stiamo Facendo giochini Sulla personalità In Facebook O condividendo La nostra email Per accedere Ad una newsletter Bensì Rischiamo Di mettere a nudo Una serie Di caratteristiche Personali Tali Da non poter Più recuperare Un errore fatto Posso chiudere Un account di mail Posso abbandonare Facebook E cancellare L'iscrizione Posso persino Cambiare la carta Di credito Ma nulla Posso fare Una volta Che un dato Genetico È stato Condiviso O è finito Nelle mani Sbagliate Nel suo libro How to hack a human Cyber security For the mind L'autore Rife Mewis Fa notare Come il tempo Medio Che passa Tra la prima volta Che un computer Viene collegato Ad internet Sentite bene Ed il primo Tentativo di hacking È appena Un minuto Se quel qualcosa Che colleghiamo È un uomo Io sarei Parecchio preoccupato E quindi Auspico Che la legislazione Prenda in considerazione I temi di Mental privacy Protezione dei segnali Elettrici Generati dal nostro Cervello E tutela del DNA Come argomenti Prioritari Già da subito Nella prossima puntata Smetteremo Per un attimo Di parlare Di uomo E mi concentrerò Sui super computer E sui computer Quantistici Come ho raccontato Un paio di puntate fa Potenziare L'uomo Può essere Uno Dei percorsi Evolutivi Futuri Con i suoi lati Positivi Ed ha anche I rischi Di cui ho parlato Oggi Ma se serve Una enorme Capacità di calcolo Per risolvere Una serie Di problemi Complessi Questa Non verrà Dal cervello Potenziato Dell'uomo Bensì Da computer Evoluti E quindi Cosa succederà Quando sia Gli uomini Che i computer Avranno fatto Il prossimo Salto generazionale Queste ed altre domande Saranno il cuore Della prossima puntata La puntata di The Future Of è finita Ma non andate via ancora un istante Prima di tutto Volevo ringraziarvi Di essere stati con me Durante il vostro tragitto in treno O in macchina O mentre stavate correndo O facendo sport O come spero io La sera Sprofondati in una comoda poltrona Con un bicchiere di cognac in mano Se quello che avete ascoltato Vi è piaciuto Lasciate una recensione O votate The Future Of Sulle app Che usate per ascoltare I vostri podcast preferiti Se volete continuare Ad incuriosirvi Sulle tecnologie future Vi ricordo Il canale Telegram The Future Of Scritto tutto attaccato Vi aspetto Vi invito ad iscrivervi in tanti Se volete contattare me La cosa più facile È scrivere un'email A andreamarco.ferrante Chiocciola gmail.com Oppure andare sul sito Thefuturoof.it Suggerimenti Spunti Critiche Proposte di collaborazione Sono sempre le benvenute In attesa che esca La prossima puntata Suggerite The Future Of Ai vostri amici L'apprezzamento Ed il passaparola Sono la migliore soddisfazione Per me E per questo progetto Di divulgazione Anionen